L'uva senza semi? Meglio se italiana! Italianissima! Docio con mio zucchero! Alla Coppe ci sono i prezzi pop! Con soli 3,48 euro, l'uva senza semi, fiorfiore e Coppe, in confezione da un chilo, è per tutti! Con meno 70% di residui di pesticidi rispetto ai limiti di legge. Fino al 2 ottobre, la Coppe sei tu! Partiamo dal presupposto che l'unica realtà che veramente deve interessarci è quella che ci riguarda personalmente, ovvero più banalmente, quello che noi pensiamo di noi stessi. Tuttavia, se parliamo di intrattenimento, ad esempio, se parliamo di come noi arriviamo nella società e quindi di come ci dobbiamo mostrare in qualche modo a seconda degli obiettivi che abbiamo, quindi che come può essere più banalmente per un operaio, un impiegato, semplicemente arrivare alla fine della giornata, prendere più soldi possibili, lavorando il meno possibile, fondamentalmente quello è lo scopo del lavoratore, come può essere per un artista dover far emergere il proprio personaggio, lo dico tra virgolette, voi non potete vedermi ma ho fatto anche il gesto, come può essere per un pittore dover vendere i propri quadri al di là della propria identità, come può essere per un regista magari scegliere un progetto per, non so, magari fare una buona presentazione festival oppure un progetto che deve invece vendere al pubblico. Insomma, voglio fare una riflessione su come noi poi siamo percepiti dalla realtà che è ciò che conta e di quanto è difficile riuscire a trovare un compromesso poi affinché noi riusciamo a raggiungere il nostro scopo, cioè essere credibili in tutto quello che facciamo. E a volte è difficile, pensate a questo podcast, una persona arriva a questo podcast magari mentre commento un ragazzo di un talent e la percezione che ha è di un saputello a casa che dice la sua opinione su un giovane che si sta esponendo. Ovviamente non conosce la mia storia, non conosce la storia di questo podcast, non conosce tante cose di me ed è una percezione completamente diversa di chi magari arriva a me tramite un editoriale come questo. Poi c'è chi magari mi conosce perché viene a vedere, non so, uno spettacolo di teatro che sto preparando e ha una percezione completamente opposta. C'è chi mi conosce tra i banchi di un'università magari e lì ha una percezione totalmente differente. Cioè nel senso sto prendendo me come esempio solo per farvi capire come noi siamo volubili a seconda del contesto in cui ci troviamo e di come potrebbe essere utile e importante riuscire a capire gli altri come ci percepiscono. Questo è impossibile, secondo me è impossibile riuscire a pilotare la percezione che gli altri possono avere di noi. E qui siamo un po' nell'uno nessuno centomila. Che poi è anche interessante vedere come sono nati tanti cult senza il desiderio di essere percepiti come tali. Quindi magari attraverso degli spezioni di YouTube noi abbiamo trasformato in cult scene di film che poi sono diventati iconici. e quindi di conseguenza io mi rendo anche conto che oggi essendo tutto volubile essendo una continua ricerca del nuovo essendo un continuo scrolling succede che si fa fatica a generare nuovi cult. E questo ha molto a che fare con la percezione e con la realtà dei fatti. perché questa roba qui non ci permette di restare nel tempo ed è un casino e questo aumenta il senso di disrispetto verso tutto aumenta lo snobbismo Il concetto dello snobbismo tra l'altro mi è venuto in mente ascoltando una puntata di no di tintoria del podcast di AJ Axe dove sul caso di ID dove praticamente si banalizza la figura di Frank Lucas rapidamente è un snicciatore seriale cioè Frank Lucas ragazzi ha snicciato i carabinieri corrotti dovremmo dirgli grazie nel senso che è rimasto comunque fedele alla sua attitudine io non lo chiamerei collaboratore di giustizia nel senso che anche qui andiamo su un concetto di percezione abbiamo l'American Gangster il re dell'eroina uno dei appunto venditori trafficanti più famosi al mondo banalizzato così snicciatore seriale sul fine carriera nel senso anche qui una percezione un po' sbalzata poi la diamo è un esempio non voglio andare contro nessuno però è un esempio di come poi la percezione in qualche modo ci dà una visione della realtà perché è diverso dire ah Frank Lucas il re dell'eroina da Frank Lucas il collaboratore no? e quindi giusto per rimanere in tema è importante però dall'altra parte noi possiamo capire da come noi percepiamo la realtà degli indizi che diamo di noi stessi quindi il comico fondamentalmente deve far ridere quindi tende a minimizzare a banalizzare tutto ed è anche un modo di sentirsi superiore alla realtà perché quello è il suo lavoro per questo i miei comici stanno un po' sul cazzo essenzialmente a parte quelli che mi fanno veramente ridere perché è facile che si mettano proprio sopra la realtà perché devono screditare tutto e tutti senza diciamo mettendo la provocazione prima di tutto il resto e quindi è facile provocare a parte che è il comico mi è venuta anche in mente la prospettiva di Vince McMahon nella sua serie Netflix sua poi anche qui si è anche un po' dissociato quindi una serie Netflix di lui in cui praticamente a un certo punto il wrestling dal WWE riprende il comando sulla WCW proprio perché lavora su questa forma dell'actitude e cambia completamente la percezione iniziano a fare cose estreme e lui dice la percezione è tutto e quindi dobbiamo cambiare il modo in cui il pubblico ci percepisce affinché riusciamo a far capire che il nostro roster è superiore della concorrenza e quindi c'è stessi personaggi che però amplificano loro stessi e questa roba qui ha portato poi il pubblico a riprendere la WWE a rivederla come la federazione principale distruggendo la concorrenza letteralmente estremizzando a che prezzo però andando a livello morale a distruggere qualsiasi etica che è ciò che accade quando andiamo a screditare con la provocazione in maniera estrema qualcosa la provocazione vende l'estremo vende basti pensare che noi utilizziamo la rabbia come antidepressivo naturale la persona depressa spesso e volentieri è arrabbiata perché grazie alla rabbia riesce in qualche modo a sopravvivere alla tristezza e a darsi vita a darsi forza ma è un pagliativo perché poi passa la rabbia e la tristezza diventa ancora maggiore quindi la tristezza va ascoltata ed elaborata affinché ci si possa incanalare in un percorso di stabilità tranquillità serenità e che possa portare ogni tanto alla felicità invece la rabbia è un po' come l'euforia come sono felice in questo momento magari sei semplicemente euforico l'euforia è uno stato pericoloso anche la felicità invece se ben gestita è uno stato che ti dà è come l'amore tossico l'amore tossico ti dà sbalzi d'euforia un amore vero sincero ben calibrato da due persone che sanno gestirlo è un qualcosa che invece ti dà strumenti ti dà la possibilità di dare il meglio di te non solo durante la bolla e l'innamoramento poi questo sarà vero sarà non vero l'amore esiste non esiste anche qui dipende da come la percepisce la persona e quindi l'amore come percepito da un adolescente è diverso da come percepito da una persona di 40 anni che ha subito traumi e che quindi fa fatica e quindi ha di conseguenza dei muri e ancora di più anche se magari ha davanti una persona sincera che desidera sinceramente amarla questa persona magari farà fatica perché percepisce quella roba come anche negativa in quanto poi in momenti di gioia si tende a dimenticarli o comunque a ricordarli dopo quando si è tranquilli la sofferenza resta e quindi anche qui la percezione diventa la nostra realtà una persona che ci tende la mano se noi siamo diffidenti diventa una persona che vuole sfruttarci per chissà quale interesse personale e quindi è sulla percezione che si gioca tutto il concetto di fiducia ma spesso e volentieri non è che abbiamo torto dobbiamo anche renderci conto che la verità ha più sfaccettature come spesso io ho detto e quindi un attimo tutto questo episodio tutte queste parole personalmente io le metto in fila per dare come al solito non un consiglio ma una direzione verso il riflettere senza giudizio è fondamentale eliminare ogni giudizio per eliminare ogni forma di retorica e di percezione senza togliere il sogno anzi rendendolo ancora più autentico senza togliere l'emozione di quello che facciamo al contrario liberandola lasciandola libera non dopata lasciando la possibilità di stupirci la possibilità di scoprirci di andare oltre quella base quella patina che ci hanno venduto che ci continuano a vendere tutti i giorni per renderci un prodotto per renderci facilmente acquistabili e per farlo ci rendono impotenti ci convincono che noi non bastiamo a noi stessi e quindi di conseguenza devi acquistare devi copiare devi percepire la realtà come un qualcosa che ti è necessaria non nella realtà in sé ma quello che ti viene venduto poi come realtà che non è la realtà è percezione oggi voice ti consiglia sapevi che i pistacchi di bronte e cime tempestose hanno una cosa in comune e se ti dicessi che quella cosa sono i ciclopi sono Alessandro Gelain e nel mio podcast mitologia esploro ogni settimana le storie più incredibili del passato raccontando i segreti che hanno plasmato la nostra cultura ascoltalo su tutte le piattaforme e lasciati stupire le piattaforme le piattaforme di